Benvenuto sui miei canali e sulla mia piattaforma. Per chi ancora non mi conosce, io sono Alessandra Pagliuca, artista e docente di disegno e pittura specializzata nel realismo e nell'arte figurativa. Oggi sono qui per presentare il mio nuovo mini corso online dedicato al ritratto a pastello. In particolare il ritratto femminile con i pastelli morbidi e con la tecnica della grisaglia. Si tratta infatti di un corso online strutturato in cui spiego tutte le fasi di realizzazione di un ritratto con la tecnica della grisaglia che permette di creare una mappatura del chiaroscuro per poi facilitare in seguito il lavoro di tratteggio e di stesura del colore. In questo corso potete trovare infatti 10 lezioni registrate completamente in alta definizione accessibili in ogni momento e senza alcuna scadenza partendo proprio dalla lista dei materiali, la realizzazione della traccia, la grisaglia, la scelta dei codici colori per la realizzazione di un ritratto e in seguito procedendo passo per passo insieme per tutta la realizzazione del disegno e quindi lavorando su ogni singola parte. È un corso online dedicato principalmente a studenti che hanno già un livello intermedio o avanzato nel disegno a pastello quindi lo sconsiglio a principi ante assoluti perché è molto tecnico ed è un po' complesso. L'obiettivo di questo corso è insegnarvi a realizzare un ritratto con la tecnica della grisaglia quindi con un valido alleato per la creazione di una mappatura del chiaroscuro che vi servirà in seguito per la realizzazione del ritratto vero e proprio e quindi vi aiuterà poi nel tratteggio, nelle campiture e nella stesura del colore soprattutto per quanto riguarda l'incarnato. Se amate la tecnica del pastello morbido questo minicorso fa sicuramente per voi. Diventando miei studenti inoltre avrete anche la possibilità di richiedermi eventuali consigli e correzioni per il lavoro svolto durante il corso. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni non esitate a contattarmi tramite i miei canali.